La Cianci candidata al Consiglio regionale con la lista Abruzzo insieme, qual è la visione di territorio che porterà in caso di vittoria? Una visione sicuramente in discontinuità con quanto fatto in questi cinque anni dal governo Marsiglio, un programma che mette sicuramente al centro la sanità cercando di renderla più equa, ragionando sulle liste d'attesa per renderle maggiormente congrue a quelle che sono le esigenze delle cittadine e dei cittadini abruzzesi, parlare concretamente della questione del diritto allo studio, prevedere quindi delle forme di sostentamento economico per quelle ragazze e ragazzi che hanno difficoltà economiche, sicuramente il futuro della nostra regione passa attraverso lo sviluppo sostenibile, passa attraverso un'economia che va a braccetto con il rispetto per l'ambiente, sicuramente una visione che non può prevedere quello che è stato fatto in questi giorni, ovvero il taglio di ettari e ettari di terreno della riserva del Borsacchio, un ritorno ad un momento storico in cui le aree protette venivano viste come un limite e non un valore aggiunto, quindi noi lavoreremo, la nostra proposta è questa, la lavoreremo in questo senso e sono convinta che portando avanti questi temi ai quali si aggiungeranno quelli che in queste settimane Luciano Danico sta portando avanti e sta condividendo con i territori, noi riusciremo a mandare a casa questo loro governo regionale, a mandare a casa il centro-destra e a ridare alla nostra regione una speranza.